Cosa pensa dell'impegno della Cida e dei manager italiani per il rilancio del Paese e di questo momento di confronto con i candidati alle elezioni? L'impegno della società civile e in particolare della Cida, di cui mi sono anche onorato di far parte sino alcuni anni fa, fin tanto che sono stato manager anch'io e non imprenditore, è una componente positiva. Come sempre l'impegno della società civile in un momento di confronto politico che vuole vedere e deve rivedere nuovamente la società civile, chiedere ai propri candidati di presentarsi, spiegare i propri programmi. In quale ambito ritiene che le organizzazioni dei manager possano maggiormente contribuire a migliorare la politica del Paese? I manager hanno molto da dire al Paese, i manager hanno molto da dire perché sono la parte viva del Paese, sono coloro che permettono alle aziende di funzionare, sono coloro che permettono alle aziende di svilupparsi, di crescere e diventare internazionali. Al di là delle famose e continue discussioni tra managerialità e imprenditorialità, è il manager che si prende la responsabilità in modo di essere interessato di permettere all'azienda che lui rappresenta di crescere e di svilupparsi. Questo è il ruolo che svolge il manager per la propria azienda, questo è il ruolo che può svolgere il manager per il Paese. In questo senso è solamente positivo. Cosa pensa del programma politico CIDA, delle priorità e delle azioni individuate? Il programma politico CIDA, con grande piacere, sembra essere molto simile al nostro. Ovviamente le priorità sono quelle nel senso di un maggiore merito, di investimento in formazione e in ricerca. Il nostro programma è un programma che da un lato prevede una migliore efficienza dello Stato e questo, mi sembra, noi lo ritroviamo nel programma. Ma tra tutte le voci di spesa che noi vorremmo tagliare, ce n'è una che al contrario vogliamo privilegiare ed è la stessa che ritroviamo nel programma di CIDA ed è l'investimento in formazione, in sviluppo, in università e in ricerca, dove immaginiamo di investire sino a un per cento del prodotto di Terno Lordo che vale 15 miliardi. In questo senso vedo che ci sia un grande allineamento e credo che i due programmi, il vostro e il nostro, vadano nella stessa direzione. Alla luce della sua esperienza, su quale delle priorità del programma CIDA intende impegnarsi maggiormente nel corso del suo mandato elettivo e in che modo ritiene si potrà misurare il risultato di tale impegno? Avendo fatto impresa sono due le voci più importanti che ritengo siano quelle prioritarie. il recupero di competitività e lo sviluppo della professionalità, della competenza, dell'innovazione. Queste sono le due voci su cui il nostro paese, che è un paese fortemente manufatturiero, ma che può basare il suo successo esclusivamente se recupera competitività, potrà realizzarsi. Per questo motivo ritengo che siano le due voci prioritarie sulle quali occorre battersi assieme sino in fondo.